buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo un mandrino che può essere utilizzato su un avvittatore è un mandrino universale con un'ampia capienza monta punte da un millimetro a sei millimetri punte frese o utensili con codolo da un millimetro a sei millimetri è un mandrino autoserrante a tre ganache vedete che può chiudere a un millimetro mentre aprendolo possiamo chiudere sino a sei millimetri volendo si può rimuovere anche la parte esagonale dietro andando poi inserirlo su un trapano col giusto diametro col giusto filetto col giusto passo ecco qui vediamo l'attacco l'attacco esagonale normalmente si può usare su un avvitatore vedete l'attacco esagonale stiamo indicando l'attacco esagonale per un avvitatore diciamo che si tratta di un mandrino molto valido vedete qui vogliamo inserire una spazzola del diametro di 3 mm il codolo il diametro dell'albero e di 3 mm adesso vediamo di fissarmi in modo corretto ecco abbiamo chiuso la spazzolina e qui vediamo l'attacco esagonale vi ringraziamo per l'attenzione se volete vedere alcuni nostri prodotti oppure la maggior parte dei nostri prodotti potete vedere il nostro sito elettronicadidattica.com e se volete potete iscrivervi al nostro canale su youtube grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video